Possiamo cominciare? Avverto, buongiorno a tutti, avverto che la pubblicità dei lavori dell'assoluto di Anna sarà assicurata oltre che mediante resoconto stenografico anche attraverso la trasmissione diretta sul web tv della Camera dei Deputati. In ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143,2 del regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5,5 del regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, dottor Antonio Culaianni, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. L'audizione costituisce un ulteriore tassello dell'attività conoscitiva che la Commissione sta portando avanti sullo stato di attuazione del federalismo fiscale e sulla piena realizzazione del disegno normativo tracciato dalla legge delega 42 del 2009 e dunque sull'effettiva declinazione del principio di autonomia finanziaria sancito dall'articolo 119 della Costituzione nel sistema delle relazioni tra i livelli di governo. L'intervento che il dottor Culaianni svolgerà questa mattina, alla luce delle importanti funzioni esercitate dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale in materia di determinazione e attribuzione della risorsa degli enti decentrati di raccolta ed elaborazione di dati finanziari e in generale di ordinamento finanziario e contabile delle autonomie locali, reccherà senz'altro un contributo altamente qualificato su diversi argomenti di interesse della Commissione. D'altro canto le questioni sul tappeto per quanto riguarda la finanza locale sono molteplici e delicate. Il superamento della finanza derivata, il definitivo abbandono del criterio della spesa storica nella distribuzione delle risorse, le forme e le modalità della perequazione, il potenziamento dell'efficienza delle decisioni di entrata e di spesa e nella prestazione dei servizi, una maggiore responsabilizzazione degli amministratori pubblici, il rilancio degli investimenti in ambito locale, anche nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché il sostegno e il risanamento degli enti di sofferenza finanziaria. Sono soltanto alcuni dei temi ricorrenti sui quali oggi potrà essere ulteriormente consolidato il lavoro di analisi. Ricordo che i componenti della Commissione, in virtù di quanto stabilito l'aggiunta per il regolamento della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, possono partecipare alla seduta anche da remoto. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, faccio presente che è in conformità a quanto convenuto un sede d'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché alla prassi già seguita in occasione delle precedenti sedute e audizioni, dopo la relazione introduttiva da parte del Dottor Coraianni, darò la parola a un oratore per gruppo. Conclusa questa fase della discussione, si potrà valutare in considerazione del tempo disponibile se procederanno eventuali ulteriori serie di interventi, lasciando comunque lo spazio necessario per la replica. Andare a comandare ai colleghi di contenere la durata degli interventi, invito a far prevenire alla Presidenza le richieste di iscrizione a parlare. A questo punto rinnovo il benvenuto al Dottor Coraianni, che ringrazio in nome di tutta la Commissione per aver accettato l'invito e gli cedo la parola. Prego. Grazie Presidente, saluto lei, saluto i componenti della Commissione che mi consentono questa mattina di esprimere alcune opinioni riguardo al percorso che la finanza locale sta percorrendo insieme ad altri soggetti interessati per l'attuazione del federalismo fiscale. Lei ha già annunciato alcuni argomenti su cui stamattina mi soffermerò, aspettando i tempi che mi sono stati assegnati, e che ritengo di importanza fondamentale sia nel percorso in atto per il federalismo fiscale e sia per quanto riguarda tutta quella serie di interventi, a cominciare dagli investimenti, come diceva lei, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Farò alcune riflessioni su quelle che sono le crisi finanziarie in questo momento. Preliminarmente io metterei in evidenza che l'attuare del settore della finanza territoriale risente, ma questo credo sia notorio, del mancato completamento del processo riformatore che il legislatore ha previsto con la legge delega del 42 del 21 maggio 2009. Dobbiamo però dire che la finanza territoriale in un settore negli ultimi decenni ha sentito di innumerevoli interventi di riforma. Questi interventi hanno rallentato il percorso, rendendo i processi complicati da attuare con obiettivi da raggiungere che richiedono un percorso temporale ragguardevole. La disciplina introdotta a legge 42 e poi anche al decreto legislativo 23 del 2011 è stata oggetto di numerosi ripensamenti normativi, in modo particolare a riferimento all'imposizione immobiliare. Si pensa ad esempio a diversi generalizzati di spese che si sono succeduti in questi anni, in particolare proprio sui comuni abbiamo interventi che riguardano l'IMO, dall'anticipazione ad ricordare al 2012 e alla sua estensione all'abitazione principale del decreto legge 201 del 2011, alla soppressione della riserva di Stato soggetto di 2 IMO relativa alle abitazioni principali e del fondo sperimentale con la legge stabilità 2013. L'introduzione della IUC, faccio un brevissimo scurso presso la legge stabilità 2014, l'eliminazione della tazza sulla prima casa con la legge stabilità 2016. Si tratta appunto di innovazioni che, assieme ad altre coeve, hanno radicato l'impianto centralistico al sistema di finanziamento, non perfettamente in linea con i criteri della riforma del federismo municipale. Un esempio lampante è costituito dall'attuale conformazione del fondo di solidarietà comunale, che per lungo tempo è stato prevalentemente orizzontale, vale a dire alimentato in via pressoché esclusiva dai comuni attraverso il getto di 2 del LIMO, questo in conseguenza dell'alzeramento della quota finanziata dallo Stato. Come diceva il Presidente, l'obiettivo del superamento della spesa storica è alla base dei principi fondamentali della legge 42. È a tutt'oggi un movimento riformatore in corso, un elemento al processo legato alla pereguazione e all'applicazione del sistema di ripartizione delle risorse da fuori degli enti locali attraverso l'individuazione di fabbisogni standard, che come sappiamo sono uno strumento potrà garantire al regime il finanziamento dei livelli essenziali di prestazione e delle funzioni fondamentali degli enti locali, che appunto è l'obiettivo finale per l'attuazione definitiva e completa del federalismo fiscale. Tralasciando alcuni aspetti che riguardano l'inizio del processo di riforma, di cui sicuramente si è già discusso in passato, anche agli altri della Commissione hanno potuto constatare che ci sono stati diversi interventi da parte di autorevoli colleghi, vorrei dare alcuni cenni in particolar modo sulle competenze del Ministero dell'Interno e in particolare della direzione centrale della finanza locale. Partirei citando l'articolo 57 del decreto legge 124 del 2019, che è detto appunto disposizione di gente in materia fiscale per esigenze indifferibili, con il quale viene aggiornato il percorso pereguativo del Fondo di Solidarietà Comunale, prevedendo una diversa rimodulazione con aumento al 5% della quota distribuita fra i comuni sulla base della differenza scadolente fra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, approvati dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Ricordo che la predetta quota era stata in precedenza fissata al 40% per l'anno 2017 e per il 45% negli anni 2018-2019. Con questo intervento normativo si raggiunge un duplice obiettivo, ripartire dall'anno 2020 con un processo definitivo di superamento al concetto di spesa storica congelato nel 2019 e aggiornare il lasso tempo per il completamento del relativo percorso. Passiamo da una previsione di raggiungimento del target percorso dell'anno 2021 al 2030, quindi un lasso tempo molto più ampio per consentire anche di far assorbire agli enti locali i disequilibri dovuti appunto alla presenza in precedenza di scaloni che creavano un impatto abbastanza forte sugli equilibri di bilancio. Quindi in questo intervento il legislatore rende un po' più soft, un po' più tranquilla quella che è la transizione della pereguazione. Io, visto il tempo, poi comunque lascerò il contributo. Faccio solo qualche accenno alla composizione del fondo, la cui quota maggiore è data dal limbo di spentanza comunale, distendendo appunto all'alimentare il fondo. Siamo partiti da 4.717 milioni di euro e negli anni ci sono stati degli incrementi. Questa cosa è poi stata ridefinita. Come dicevo prima, sostanzialmente il fondo per qualche anno è vissuto soltanto di una situazione di orizzontalità che soltanto negli ultimi anni è stata in parte superata con un nuovo intervento da parte dello Stato. Infatti andrei adesso a esaminare come siamo in questo momento. È composto il fondo di solidarietà comunale. Abbiamo una compagnia ristorativa costituita dalle risorse necessarie ristoriche del meno oggettivo derivate dai comuni per esenzione e agevolazione IMO e TASI. È una componente tradizionale che è destinata all'equilibrio delle risorse storiche, una parte della quale viene ripartita fra i comuni della regione a stato ordinario anche secondo criteri pereguativi. La componente destinata allo sviluppo dei servizi giurati comunali in forma singola associata dai comuni e delle regioni a stato ordinario, apprezzamente gli asili inito, è stata inserita con la legge bilancio 2021 e tra il 2020 e il 2021 è ripartito col processo dello Stato di intervenire nella dotazione del fondo di solidarietà comunale. Che succede oggi? Oggi abbiamo la legge di bilancio del 2022, numero 234. Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale abbiamo tre interventi abbastanza puntuali che adesso esaminerò brevemente. Abbiamo il comma 583 che riguarda i servizi sociali, il comma 172 gli asili inito e il comma 174 il trasporto degli alunni disabili. Per quanto riguarda la funzione dei servizi sociali parliamo di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021. Questa dotazione viene incrementata fino ad arrivare al 2030 a 650,9 milioni a regime. Quindi è un incremento graduale che consente interventi in un settore dei servizi sociali fortemente gravato da nuove funzioni a causa anche dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e quindi lo Stato interviene appunto per dare un po' di respiro ai bilanci comunali attraverso il fondo di solidarietà comunale. Per quanto riguarda gli asili nido si prevede un incremento del numero dei posti disponibili nei comuni della regione Assoluto Ordinario e della regione Sicilia e Sardegna. Con particolare attenzione ai comuni dove i proietti e servizi denotano maggiore carenze. Sappiamo che l'obiettivo finale è quello di arrivare al 33% di posti nei servizi educativi all'infanzia che comprendono nidi e micronidi e il 33% in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia tra i 3 e i 36 mesi. Anche qui il percorso è graduale costante e le risorse sono abbastanza cospicue perché partiamo da risorse che vanno nel 2022 nella misura di 200 milioni e 175 nel 2023 e così a seguire fino ad arrivare a 1 miliardo e 100 milioni a regime a decorrere dal 2027, appunto per raggiungere l'obiettivo di cui parlavo prima. Un ulteriore sforzo che viene fatto dallo Stato rispetto all'implementazione di questi particolari settori attraverso quello che è il Fondo di Società Comunale è l'intervento che prevede una quota del fondo a favore degli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado. Questo intervento tende a potenziare il trasporto scolastico e migliorare l'accesso alle sedi. Tale previsione normativa prevede l'erogazione anche qui di un contributo che va dei 390 milioni per l'anno 22 che poi essendo un contributo di nuova istituzione parte subito con una doazione importante di 390 milioni che poi comunque negli anni successivi viene portata a 50 milioni, 80 milioni, 100 milioni fino ad arrivare anche qui al 2027 a 120 milioni a regime, appunto per incrementare la percentuale degli alunni disabili che possono soffrire di questo servizio e poter accedere alla scuola. Aggiungerei che queste risorse sono in corso di riparto secondo modalità previste dalla norma. sono stati già esaminati in sede di commissione tecnica fabbisogni standard, sono stati visti gli obiettivi di servizio, sono stati visti i criteri di riparto tenendo appunto conto di quello che la norma prevede per la distribuzione nei comuni, soprattutto quelli che necessitano di maggior intervento finanziario. Questi decreti sono decreti che vengono concertati con altri ministeri come il ministero dell'economia che partecipa al decreto dei servizi sociali, il ministero dell'istruzione, il sud del costo senatoriale per opportunità e famiglia per contribuire degli asili nido e oltre a questi per il trasporto degli alunni disabili e chiaramente il ministro per la disabilità. Per quanto riguarda il piano di riparto delle risorse del fondo 2022 e il DPCM attualmente in corso di perfezionamento. Il percorso è stato iniziato dalla commissione tecnica fabbisogni standard con due apposite sedute che si sono ottenute il 7 e il 30 settembre e l'11 ottobre del 2021 dove sono stati esaminati i coefficienti di riparto per la funzione dei servizi sociali, fabbisogni standard e le capacità fiscali per l'anno 2022. Tutti questi sono atti predeutici appunto al piano di riparto. È stato avviato nella commissione il confronto fra due livelli di governo, centrale e locale, proprio per dare una definizione puntuale e precisa ai criteri. Il confronto si è protratto dal 12 novembre al 20 dicembre 2021 con riunione tecnica in cui si è proceduto a elaborare il piano di riparto e la nota metodologica che contiene i criteri che regolano l'istribuzione del fondo per il 2022. In particolare il fondo del 2022 è determinato in 6.855 milioni contro i 6.616,5 del 2021. La terminazione avviene attraverso l'applicazione del comma 448 dell'articolo 1 della legge 232 2016 come modificato nel corso degli anni e da ultimo dal comma 794 della legge 178 del 2020 e la legge bilancio del 2021. Rispetto all'anno precedente risulta incrementata da 200 a 300 milioni la quota destinata a specifiche esigenze di correzione al riparto e da 215,9 a 254,9 milioni di euro la quota di risorse finanziarie destinata allo sviluppo dei servizi sociali come appunto ho illustrato prima. Dedotta la quota di 3.817 milioni di euro destinata a compensare i minori introdotti IMU a causa delle esenzioni introdotte per la prima abitazione, nella quota di 1.856 milioni di euro destinata a comune regione assoluto ordinario è stata ripartita come previsto dalla comma 449 della 232 del 2016 per il 40%, 752 milioni secondo il criterio della compensazione delle esorze storiche e per il 60% percentuale è prevista per il 2022 quindi 1.128 milioni secondo il criterio perequativo in base alla differenza fra capacità fiscale fa bisogno di standard approvato nelle sedute del 30 settembre del 11 ottobre 21. La quota destinata alle comuni della regione siciliana e della Sardegna pari a 464,1 milioni di euro è stata ripartita esclusivamente in base al criterio della compensazione delle esorze storiche come previsto dalla lettera D del citato comma 449. Nella seduta del 21 dicembre scorso la commissione tecnica fa bisogno di standard, questo ha espresso il prescritto parere tecnico sulla nota metodologica di riparto, l'Anci ha tuttavia chiesto che fosse prorogato all'anno 2022 il correttivo previsto dalla lettera Dbis, sempre del comma 449 per gli anni dal 2018 al 2021, nel limite massimo di 25 milioni e questo per evitare che dei comuni avessero un saldo negativo rispetto all'anno 2021, appunto per effetto della perequazione. Le amministrazioni statali hanno accolto la richiesta dell'Anci e si sono impegnate a essere nel 2022 il suddetto correttivo. Quindi la nota metodologica è stata elaborata secondo queste indicazioni. Sotto le note è stato poi esancito l'accordo in sede di confidenza del Stato-Città-Autonomia-Locale il 22 dicembre 2021 e l'estensione del correttivo per l'anno 2022 è stata poi disposta all'articolo 3,5 del decreto legge 228, il cosiddetto mille proroghe. Con riferimento al piano di riparto del fondo per il 2022, la Direzione Centrale della Pianza Locale ha curato l'aggiornamento della popolazione di riferimento e dell'anagrafica dei comuni, rideterminate in base anche alle fusioni e nel frattempo intervenute. Ha inoltre elaborato la quota storica del fondo e ha contribuito alla stesura della nota metodologica. I dati del riparto sono stati pubblicati sul sito dipartimentale per consentire agli enti di poter prenderne visione e tenerne conto anche nella redazione dei bilanci di previsione e per ogni ente è stato pubblicato un prospetto illustrativo delle diverse posti contabili che determinano l'aspettanza finale. L'emergenza sanitaria, come ha influito l'emergenza sanitaria? L'emergenza sanitaria, come dicevo prima, ha determinato sostanzialmente un momento di grave difficoltà finanziaria. È chiaro che gli enti in questo periodo hanno risentito non solo di maggiori spese legate a interventi connessi con l'emergenza, ma anche un minore entrato, quindi hanno avuto problemi anche per mantenere l'equilibrio. Per questo, in questo periodo, lo Stato è intervenuto con diversi decreti di legge, cito il 34 e il 104 del 2020, e con l'istituzione di un fondo per l'esercizio e le funzioni fondamentali per gli enti locali, che con una dotazione iniziale di 3,5 miliardi di euro ha sopperito alle mancate entrate e ha consentito di far fronte agli squilibri finanziari, anche sulle a base degli effetti determinati sui fabbisogni di spesa. L'azione accompagnamento da parte dello Stato è proseguita nel 2021, grazie alle prese di legge bilancio, in particolare come 822-823 del 178, che ha previsto un incremento di 500 milioni di euro nel fondo, e poi nel 2022, con il decreto legge 4 del 22, che nel prevedere misure di sostegno legate all'emergenza Covid ha vincolato le risorse presenti nel fondo per esercizio e funzioni fondamentali al ristoro della perdita del gettito e delle maggiori spese legate all'emergenza sanitaria, consentendo, e questo è molto importante, l'utilizzo delle risorse non utilizzate, premio invio al Ministero dell'Economia e Finanza, di una certificazione della perdita del gettito connessa, in cui effetti diretti sono riconducibili all'emergenza epidemiologica. Per quanto riguarda i fabbisogni standard, sono parametri di riferimento, come è noto, costituisco un punto di riferimento per poter commisurare i finanziamenti delle spese fondamentali agli enti locali. Su questo punto rilevo che a seguito della semplificazione prevista dalla legge di stabilità 2016, tali parametri sono stati revisionati sia per i comuni che per le città metropolitane e le province. Di capacità fiscali abbiamo appositi approvedimenti che ne hanno determinato la procedura di calcolo di stimola, in particolare è stato rivisto il decreto legge 124 del 2019, che ha previsto, tra l'altro, l'approvazione del relativo decreto dell'Economia, l'amministratore dell'economia, solo dopo l'approvazione della nota metodologica e della stimola di capacità fiscali da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Recentemente l'aggiornamento della stimola delle capacità fiscali per i comuni e le regioni sottordinei è stato effettuato con il decreto ministeriale del 31 dicembre 2020 per l'anno 2021 e del 16 dicembre 2021 per l'anno 2022. Io per quanto riguarda la parte del fondo mi fermerei qui, ho cercato di dare un focus su quella che è l'attuazione al momento del 2022, aggiungo soltanto che il DPCM è stato elaborato in collaborazione con l'ufficio legislativo del Ministero delle Finanze e in questo momento credo sia la firma del Presidente del Consiglio, quindi a breve avremo il decreto e così potremo procedere con il primo acconto verso i comuni che utilizzano appunto il fondo per le spese correnti e che secondo la norma noi dovremmo e dobbiamo sicuramente effettuare entro il mese di maggio. Vorrei spendere qualche parola però qui cerco di non dilungarmi sugli investimenti e investimenti del federalismo. Allora, noi sappiamo tutti abbiamo vissuto una forte crisi economica tra la fine del primo decennio del secolo e il secondo decennio, quindi questa crisi economica tra i vari effetti ha comportato anche la compressione degli investimenti negli enti locali, quindi la minore partecipazione al di là dei tagli di spesa, ma anche sugli investimenti c'è stata una fortissima riduzione. Con la legge di bilancio del 2018 il Governo ha cominciato a prevedere un'inversione di tendenza, anche perché se si vuole uscire dalle crisi e l'investimento a livello locale è molto importante, l'economia fa ripartire l'economia dal basso, fa aumentare il PIL dal basso. Quindi noi abbiamo avuto una serie di interventi, diciamo inizialmente abbastanza limitati, ricordo a me stesso il comma 107 della legge 145 del 2018 che prevedeva contributi per investimenti in messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, ulteriori contributi che sono stati rivolti all'efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile dei territori e così via, fino ad arrivare alla legge di bilancio 2020 che invece ha previsto un più corposo piano di interventi e di ampio respiro, diciamo almeno 15 anni e molti di questi contributi nuovi previsti da queste normative avevano una visione di medio periodo, quantomeno di medio periodo anche per consentire agli enti locali una programmazione puntuale. E qui devo dire la finanza locale è stata chiamata a un ruolo che forse in passato non aveva rivestito, quindi partecipare ai tavoli tecnici, ai criteri di riparto e fondamentalmente gestire questi fondi con tutto quello che ne comporta appunto in fatto di attività gestionali. Ricordo che insieme agli obiettivi di cui ho parlato poc'anzi abbiamo avuto i fondi per la rigenerazione urbana, i fondi per medie e piccole opere, i fondi per l'asili nido, per la costruzione di asili nido, scuole dell'infanzia e quindi un corposo programma che destinava alla finanza locale più del 50% delle risorse disponibili per gli investimenti negli enti locali. In tutto questo purtroppo poi abbiamo avuto questo periodo emergenziale e fra le varie iniziative per uscire da questo periodo e riprendere a far cuore l'economia c'è il piano nazionale di PNRR, sì esattamente. Questa è una forte risposta dell'Unione Europea alla crisi pandemica. Sappiamo tutti che molti settori economici sono andati in ginocchio e le conseguenze di quest'onda lunga, dovuto appunto a questa crisi economica, ha attraversato l'economia mondiale. Per l'Europa è stato elaborato questo piano. Il piano che discende da un programma che ormai abbiamo tutti imparato a conoscere, il Next Generation EU, che guarda appunto già dalla denominazione alle future generazioni e si fonda su due grandi pilastri, su cui si intende realizzare appunto l'obiettivo della ripartenza. Sono appunto il piano per la ripresa e la resilienza e nel pacchetto di assistenza e alla ripresa e alla evoluzione dei territori d'Europa, l'RRF e il REACT-U. Quest'ultimo programma vorrei fare qualche cenno. Nel quadro del REACT-U sono previste anche delle riforme, riforme necessarie per la buona riuscita del piano, che in Italia ha appunto assunto la definizione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza e che vede coinvolti in primo piano i territori degli enti locali. Nel contesto della finanza locale vorrei mettere in evidenza l'importanza della realizzazione delle riforme, da cui non si può prescindere, se si vuole centrare l'obiettivo finale, che è il nostro traguardo, quello fissato al 2026. Il contesto in cui si origine il PNRR è fortemente caratterizzato un quadro emergenziale, che ha trovato un'economia debole e che, ricordo, il tasso di crescita ha trovato un tasso di crescita inferiore alla media dei Paesi avanzati. Il tasso di investimenti, seppur in controtendenza, come dicevo prima, per quelle iniziative che sono partite nel 2018, è a tutt'oggi sotto i livelli del 2008, sia per quanto riguarda gli investimenti pubblici che quelli privati. E quindi questo mette in evidenza l'importanza della realizzazione del piano di ripresa e resilienza. In altre parole, la pandemia da Covid-19 è stata in grado di incidere negativamente sul piano del rilancio dell'economia del Paese. I governi, l'ultimo quinquennio, un rilancio che i governi stavano faticosamente mettendo in atto fino ad aumentare il PIL e gli indicatori economici, come dicevo prima. Quindi, per poter avere successo e credere nella buona riuscita del piano, noi non possiamo prescindere dalle necessarie riforme, le cui principali sono già individuate nel quadro della New Generation EU, il punto che riguardano la giustizia, la pubblica amministrazione, il fisco e la concorrenza, senza dimenticare l'annoso tema del conflitto di interessi. Tutte queste riforme formano un unicum e, se qualcuno appare indispensabile per la governanza del territorio, non si può prescindere da nessuna di esse se si intende attuare il piano di interventi previsto dal PNRR in maniera completa, senza ritardi nel cronoprogramma, che ricordo è abbastanza puntuale e anche abbastanza preciso per quanto riguarda target e maestro da raggiungere, e soprattutto evitare spreco di risorse e generare ricchezza futura. Come sappiamo le risorse PNRR Italia Domani sono pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 30 miliardi del fondo complementare. Di questi 191 miliardi, 66 miliardi circa sono destinati agli enti locali nel quadro appunto dello sviluppo territoriale. Quindi almeno il 35% dello stanziamento complessivo di cui 12 miliardi sono a gestione del Ministero dell'Interno, impegnato a sostenere da sempre appunto, come dicevo prima, le attività legate agli enti territoriali. I macro obiettivi sono ormai conosciuti da tutti, parliamo di transizione ecologica, digitalizzazione, competitività, formazione, inclusione sociale e territoriale, esplicitate appunto nelle sei grandi aree di intervento. Io vorrei soffermarmi sul Ministero dell'Interno, su questi 12 miliardi, 12 miliardi dei 65 milioni che abbiamo a disposizione per creare condizioni di sviluppo nel territorio, in particolare come preda la norma, al sud con la destinazione del 40% delle risorse, percentuale che stiamo sempre cercando di rispettare appunto perché è previsto dalla norma e comunque anche al fine di eliminare quegli squilibri finanziari e anche territoriali. Noi avevamo già iniziato un piano di investimenti con gli enti locali. Questo piano di investimenti con il PNRR viene accelerato. Accelerato nel senso che ciò che era previsto qui dal 2006 è stato accorpato e le risorse sono state trasfitte al PNRR e quindi gli enti locali hanno potuto soffrire subito di questi benefici. Benefici che riguardano piccole opere, sostanzialmente indirizzate ai piccoli comuni, medie opere comuni medio-grandi, interventi di regenerazione urbana che con il DPCM del 21 dicembre 2021 sono stati regolamentati con previsione di interventi nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e i piani urbani integrati che invece sono una novità assoluta per quanto riguarda i nostri investimenti. Mi soffermo brevemente. Le nostre missioni sono sempre rivoluzione verde e transizione ecologica, inclusione e coesione. Queste sono le nostre missioni. I nostri interventi sono quelli che ho appena delineato. La rigenerazione urbana. I medie e piccole opere sono già partite. La criticità sostanzialmente è conformare quella che era la normativa nazionale alla normativa europea e questo è molto importante rispetto a questi interventi che essendo partiti erano partiti già con altre indicazioni. e quindi l'impegno che in questo momento stiamo sostenendo appunto è adeguare le normative e le indicazioni ai comuni inserendo quei dettagli che prima abbiamo previsti tipo attività di adesione obbligo e soprattutto il rispetto del non arrecare danno significativo all'ambiente e che è un'indicazione trasversale per tutti quelli che sono gli interventi e che è abbastanza importante e anche faticoso andare a rivedere su opere già iniziate. La rigenerazione urbana, solo per concludere, piccole opere e medie opere cubano 6 miliardi di euro, quindi è un intervento fortissimo sul territorio anche su piccoli comuni. La rigenerazione urbana, la rigenerazione urbana c'è con 15 mila abitanti, 3 miliardi e 3 di dotazione, abbiamo avuto moltissime richieste, le richieste ammontavano a 4 miliardi e 4 e il legislatore, anche perché essendo i parametri della rigenerazione urbana indirizzati soprattutto alla verifica dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, hanno lasciato larghi e larghi vuoti in alcuni territori del paese, soprattutto nel nord. Il legislatore è intervenuto recentemente con l'ultimo decreto legge, autorizzando uno scorrimento della graduatoria per gli ulteriori 905 milioni mancanti e quindi con un decreto attualmente la firma del MEF, già firmato dal capodipartimento degli affari interni territoriali del ministero interno, abbiamo approvato lo scorrimento della graduatoria, quindi a breve comunicheremo agli enti l'esito dello scorrimento. A questo punto abbiamo previsto tutti i progetti, questi progetti anche se non sono di PNRR verranno comunque trattati come PNRR e quindi con tutte le indicazioni e le condizioni previste dal PNRR, a cominciare dal DSNH, non regare danno significativo all'ambiente. e quindi la religione urbana nei prossimi anni, nei prossimi due o tre anni, destinerà quest'ingente risorsa al recupero di aree degradate, aree urbane degradate e manutenzione e riuso di aree pubbliche e strutture di liste pubbliche esistenti per finire l'interesse pubblico, compresa anche la demolizione di opere abusive e questo, devo dire, qualche comune del sud dell'apprevisto nei piani, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso interventi di ristrutturazione ed edilizia e di edifici pubblici, in particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociale, culturali, educativi e didattici, alla promozione di attività culturali e sportive e anche incentivare la mobilità sostenibile. Quindi, diciamo, questo è il quadro che riguarda i nostri interventi sulla religione urbana. A quanto a questi abbiamo quello, il piano urbano integrato, che è stato regolamentato con il decreto di legge 152 del 2021 e che è indirizzato alle aree delle città metropolitane, alle 14 città metropolitane. Questo è un fondo nuovo, anche qui abbiamo 2 miliardi e 700 di dotazioni, a cui si aggiungono ulteriori interventi dovuti all'accesso al cosiddetto fondo dei fondi gestito dalla Banca Europea degli Investimenti ed è previsto anche sui piani urbani integrati e un partenariato col privato che può intervenire e dare un complemento all'attuazione dei piani urbani. I piani urbani integrati sono stati presentati lo scorso 22 marzo, così come è previsto da un nostro decreto del Ministero dell'Interno. Sono attualmente in fase di valutazione e devo dire che alcuni piani veramente sono fatti bene, altri hanno qualche problema, ma più che altro di natura amministrativa burocratica, che stiamo cercando di superare anche perché nei prossimi giorni vorremmo fare il decreto definitivo di assegnazione delle risorse alle 14 città metropolitane per poter iniziare con l'attuazione di questi progetti. Ricordo che i progetti che le città metropolitane hanno presentato possono essere più di uno, però devono avere un valore minimo e questo per dare il senso dell'impatto del territorio, ogni progetto deve avere un valore minimo di 50 milioni di euro. Te lascio di dare altri numeri perché vedo che il tempo passa, però nella mia relazione anzi mi sono permesso di mettere alla fine anche delle tabelle riassuntive che danno il senso di quello che è successo in questi anni, oltre che le varie dotazioni finanziarie, il numero di progetti presentati eccetera. Vorrei solo spendere 5 minuti per quanto riguarda le crisi finanziarie, il tempo del federalismo, questo è un fenomeno che conosciamo bene, è un fenomeno che dovremmo affrontare anche nella prossima revisione del Tuel, che credo che a breve verrà presentata la legge delega, ma poi con i decreti delegati dovremmo fare degli interventi mirati e di revisione rispetto a questi istituti. Io inizio da una frase dell'attuale Presidente del Consiglio di quando era governatore a Banca d'Italia, che diceva che è importante che il sistema dell'imposizione e della spesa a livello decentrato sia tale da premiare l'efficienza, indirizzare le risorse verso gli usi più produttivi e le priorità più urgenti, ricordando come il sistema dei trasferimenti agli enti decentrati debba abbandonare il criterio della spesa storica, operazione che faticolosamente stiamo cercando di portare l'importo, che premia l'inefficienza e diventando come il carden di una sana autonomia fiscale non possono fondarsi sulla stretta corrispondenza fra sborsi e tassazione. Qui ha forse lavorato anche il fatto della incompresa attrazione del federalismo. Oggi noi abbiamo tre istituti. L'istituto della verifica dei parametri di deficitarietà, ma soprattutto l'istituto del dissesto e l'istituto del piano di riequilibrio finanziario, che spesso, purtroppo, poi genera un dissesto. Quindi, lasciando un po' queste considerazioni filosofiche che ha voluto inserire, anche per spiegare bene qual è il clima in questo momento, nelle parole del Presidente Draghi si parla a un certo punto setta corrispondenza fra sborsi e tassazione. Ecco, noi troviamo, ma ormai in modo generalizzato, che i comuni in crisi finanziaria hanno un grossissimo problema, e questo lo voglio dire in consiglio di commissione, l'incapacità a riscuotere i tributi. Le percentuali di questi comuni, nelle tabelle troverete anche la distribuzione geografica, non sto qui adesso a dilungarmi, le aree del Paese dove sono più forti le situazioni di crisi. Quindi noi dobbiamo, in ottica di attuazione del fenomeno fiscale, dobbiamo trovare degli strumenti che consentano a questi enti di organizzarsi, dal lato della spesa, rendere una spesa produttiva e non spreco di risorse, ma soprattutto dal lato della riscossione di tributi. Questo è un punto forte, che dovremmo trovare il modo di avvicinare gli enti a una sana gestione. Per quanto riguarda gli istituti, ripeto, noi adesso andremo alla riforma del TUE, le vorrei sottolineare, e qui mi allaccio a quello che è l'ultima legge bilancio, il Comba 567. Per esempio ci sono delle carenze che ci portiamo da anni. Parlo per esempio dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, dove i dissestati, i comuni dissestati devono presentare, che è un'ipotesi che la cui istruttoria viene fatta in modo pregnante da parte degli uffici ministeriali, dopodiché viene approvata, ma dopo, per il periodo del dissesto, non c'è più nessun monitoraggio, né da parte nostra né da parte della Corte dei Fonti, come invece avviene per il piano riequilibrio. E quindi gli enti non sempre rispettano comunque, non seguono una linea diritta, che invece un monitoraggio da parte di un organo centrale potrebbe aiutare anche a rimettere in careggiata. E questo, per spendere proprio le ultime due parole, poi mi taccio, sul Comba 567 seguente della legge di bilancio, i cosiddetti accordi per le città metropolitane, che individuati puntualmente dalla norma con l'ultima legge di bilancio, hanno destinato cospicue risorse. Mi riferisco a quelle che sono dette comunemente il patto Napoli, che poi riguarda anche Torino, Reggio Calabria, Napoli e Palermo, che ha preso in vent'anni un fortissimo intervento dello Stato, oltre 2 miliardi e 700 milioni, con un contributo del 25% da parte di questi enti che hanno un disavanzo superiore a 700 euro per abitanti e che invece qui è previsto un monitoraggio da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, un monitoraggio semestrale che può verificare, valutare e eventualmente correggere la rotta. Certo, è un impegno molto importante e molto grosso. Abbiamo anche delle spinte di tanti altri comuni, soprattutto le province, che vorrebbero accedere a questa tipologia di istituto, appunto creato in via eccezionale dalla legge di bilancio, che non so che prospettive future potrà avere, però qui è previsto comunque una guida, un accompagnamento non previsto per altri istituti. Ecco, allora, nel quadro della riforma degli enti locali dovremmo prevedere anche questo, perché il percorso del fondo aiuta a prevedere le spese correnti, ad aiutare a intervenire su alcuni settori particolari. Gli investimenti speriamo produrranno ricchezza sul territorio, ma se tutto questo non viene accompagnato da una sana gestione, sia in campo fiscale, sia in campo per quanto riguarda le spese, e chiaramente questi sforzi che il Governo sta facendo e che anche gli uffici centrali stanno facendo, secondo me potranno non avere quel successo, quell'obiettivo, quel traguardo finale che almeno al 2026, alla fine del piano di ripresa di resilienza, noi ci aspettiamo. Rimango a disposizione per delle domande. Grazie. Dottore, passiamo ora agli interventi dei colleghi che intendono porre a quesiti un formulare osservazioni. È iscritto a parlare l'onorevole Fragomeli. Prego, mia facoltà. Grazie Presidente, sarà velocissimo e mi scuso fin d'ora che mi dovrò assentare fra pochi minuti e la risposta l'ascolteranno i colleghi. Volevo porre due questioni principalmente, una sulla parte corrente. Dottore Colaiani, lei giustamente ci ha riportato una fase di incremento della quota verticale dell'FSC, in particolare legata ai servizi sociali, che è un tema molto importante. Qui aggiungo una questione che abbiamo affrontato nelle ultime leggi di bilancio in modo molto marginale, che speriamo che venga affrontato in modo anche un po' più compiuto in termini di risorse, riguardo un'altra emergenza che piccoli comuni hanno e che si è sviluppata negli ultimi anni, che è quella appunto dei minori in comunità e quindi dei contributi che in qualche modo servono a sostenere una spesa che rischia di intervenire in modo molto pesante sui bilanci correnti, perché lei come ben sa nel momento in cui arriva uno, due, tre minori in un piccolo comune sono circa 35-40 mila Euro all'anno per minore e questi sfasciano completamente il bilancio di parte corrente. Su questi sono fatti dei minimi interventi grazie agli emendamenti, ma di pochi milioni di Euro e sicuramente è un tema che va assestato nel fondo di solidarietà comunale. Le pongo una questione molto puntuale rispetto al rischio di disavanzi anche di comuni che normalmente non lo erano, sempre comuni medio-piccoli legato a quello che sta accadendo a seguito anche della crisi pandemica e adesso di altre forme di crisi legate al caro Bollette. Noi abbiamo armonizzato i bilanci, abbiamo ridefinito anche l'iscrizione a bilancio di partite straordinarie come possono essere le sanzioni amministrative, le sanzioni del codice della strada, ma il tasso che mi viene riportato nell'ultimo periodo è drammatico. Se normalmente c'era una previsione anche nei periodi peggiori di un incasso del 15-20%, oggi le stime in molti comuni sono addirittura più basse di questo. Questo sta provocando anche di disavanzi tecnici, quindi volevo capire se anche come Ministero si sta pensando a una forma di rivisitazione di queste armonizzazioni. Concludo sulla parte in conto capitale, che lei giustamente ci ha parlato e ha dedicato largo spazio di interventi sulla questione dei contributi per gli investimenti, sia sul famoso Coma 29 che sul famoso Coma 139. È chiaro che abbiamo un problema sulle risorse assegnate per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e vi dicendo, che riguardano in particolare i comuni sotto i 20 mila abitanti, perché per la rigenerazione urbana abbiamo dato tantissime risorse, le graduatorie scoreranno, abbiamo grandi e lunghe graduatorie ancora ferme su questo tema e volevo capire anche qui come si lavorerà per cercare di far scorrere la graduatoria il più possibile anche attraverso i fondi PNRR. L'ultima questione è sul Coma 29 dell'efficientamento energetico. Mi sono arrivate molte segnalazioni nell'ultimo periodo riguardo al fatto che neanche l'acconto che comunemente viene dato al 15 settembre dell'anno scorso è stato rogato per gli interventi che i comuni hanno già fatto per i famosi 50 mila euro che vengono dati annualmente, quindi sono un po' in difficoltà perché hanno fatto queste opere e volevano capire un po' la tempistica. So che questo si sovrappone anche a fondi PNRR e quindi può creare problemi, però se c'è una data, una tempistica, visto che ormai il 15 settembre è passato da un po' di tempo. Grazie. Prego Senatore Perosino. Volevo fare una domanda di un argomento che forse lei ha sfiorato, che sono i tagli ancora in essere per le province, che sono frutto dei periodi bui che assommano a 3 miliardi totali sulle entrate proprie delle province di parte corrente che sono in porti molto elevati e le province, così come i comuni, ma marcatamente soffrono di parte corrente. Dei nuovi fondi di cui ha parlato fuori dei comuni, i servizi sociali, i servizi sociali, credo che sia legittimo che chi è consorziato, che è il miglior sistema per gestire queste problematiche, sia possibile girare i fondi al consorzio. Gli asili nido, i comuni che non hanno l'asilo nido, ma mi pare sia scritto, sia previsto, possono fare una convenzione con il comune vicino o con un comune che abbia l'asilo nido, possibilmente nella stessa sede dell'istituto scolastico, e confluire questi fondi, per i quali è già arrivata la comunicazione dell'importo, ed è una gran bella notizia. Una domanda su un trasporto all'uni disabili, fino alla terza media, i trasporti possono essere intesi anche come contributo alla famiglia? Oppure la seconda voce che è prevista migliore accesso alle sedi potrebbe essere usata dai comuni per migliorare, abbattere le barriere architettoniche. Sulle fondi di conto capitale, credo che negli ultimi anni ci sia stata proprio una pioggia di fondi, chi li ha gestiti bene ha potuto rimettere a nuovo il paese, soddisfare i comuni, le esigenze, la messa in sicurezza efficientemente energetico, tantissimi fondi, poi il 50 mila di base raddoppiato nel 2021, più gli 81 mila per i comuni sotto i mila abitanti sono grandiosi. Dove c'è stato secondo me un errore? Io avevo provato a fare un emendamento, ma sono emendamenti di un singolo parlamentare, l'ho fatto firmare da qualcuno, ma era la manutenzione straordinaria prevista in legge di bilancio per 10 mila Euro per i comuni fino a 3 mila, poi c'era una scala fino a 350 mila per le città grandi. 10 mila il sistema di gestione, di contazione è più eneroso della sostanza con rispetto di 10 mila Euro, lo stiamo vedendo. La regenerazione urbana, io non glieli sottopongo, ho 14 quesiti che mi ha fatto un sindaco che è capofila di una regenerazione urbana, 14, lei ci dovrebbe lavorare un giorno, ma prima o dopo magari glieli mando. L'ultima notizia è questa, perché CUP, RUP, eccetera. Sulla crisi finanziaria dei grandi comuni, l'incapacità a riscuotere non c'entra con quello che ha detto lei, perché è un giudizio politico, spassionatamente da cittadino prima che da parlamentare, lo trovo immorale, perché non si può lavorare in questo modo e non avrebbe dovuto, poi si fa come si può in politica, ma andare a ristorare di fondi che sono miliardi, come lei ha detto, di città, almeno la tassa sui rifiuti va incassata, perché sia gestito bene o male, limo, minimale, qualcosa si vuole, però purtroppo prendiamo atto. Grazie. Grazie a lei, prego senatrice Ferrero. Sì, grazie presidente. Io ringrazio il dottor Calaianni davvero per la relazione. Diciamo che i dati sono tanti ed è da rileggere più volte, per carità. Ecco, io sono in quinta commissione, in quinta commissione abbiamo sempre un po' la difficoltà a capire la capienza dei fondi. Il fondo quindi di solidarietà comunale mi sembra di aver letto che ammonta nella relazione circa a 6 mila milioni. Ecco, quindi questa è più o meno la capienza che ha il fondo. E come gettito annuale, se mi ricorda qual è più o meno il gettito annuo, invece quello che entra nel fondo ogni anno. Ecco, per avere dei valori di massima su questo fondo. Ecco, poi niente, volevo un attimino sul PNRR. Volevo capire se sono state fatte comunque, e penso proprio di sì, delle simulazioni per quanto riguarda l'aumento delle materie prime e dell'energia, che ormai è all'ordine del giorno. Devo dire che questi aumenti non sono di adesso. Io avevo fatto un'interrogazione già a marzo 2021 sull'aumento delle materie prime, perché essendo anche imprenditore ho avuto una visione privilegiata sul fatto degli aumenti delle materie prime che sono iniziati a inizio 2021. Per cui vorrei capire se ci sono questi studi in corso, perché ovviamente i comuni stanno affrontando delle spese, ma le materie sono già in aumento da un po'. Ecco, per quanto riguarda, solo questa è un'osservazione, per gli enti in zisesto, concordo con il collega Perosino sul fatto che debba essere sicuramente, non è morale appunto ristorare quei comuni che non riescono a raccogliere sul territorio tasse o quant'altro. C'è da dire che ci sono dei comuni, a volte ci siamo fatti portatori di emendamenti comuni che si trovano in disesto quando l'amministrazione cambia, trovano una situazione in disesto per dei comportamenti pregressi. Ecco, in questo caso qui io mi sento di dire che gli enti vanno aiutati a superare il disesto e ovviamente ci vorrebbe, come lei giustamente ha detto, un monitoraggio stretto poi per capire che queste risorse vengano spese bene. Mi fermerei qui, la ringrazio molto. Grazie a lei, prego Senatore Presutto. Grazie Presidente, buongiorno al Dottore Golaiani, lo ringrazio per l'illustrazione dettagliata che ha fatto. Io mi ricollego subito a quest'ultima parte, quella del controllo di gestione. effettivamente le mancanze che sono state anche evidenziate dai colleghi che mi hanno preceduto sono molto gravi. Ecco, io qui vorrei valutare, appunto con il Dottore, l'importanza ad esempio degli organi di controllo. Faccio l'esempio, revisori antilocali, organismi indipendenti di valutazione, ma lo stesso segretario comunale. Abbiamo notato che c'è una tendenza di tipo politico, ma poi che si rifletti inevitabilmente sulla gestione amministrativa, a mantenere anche un controllo parziale sulle funzioni che hanno questi organi. Chiaramente io lo dico anche come parte in causa, perché nella vita professionale sono sia le visioni antilocali che organismi indipendenti di valutazione. Io trovo veramente assurdo che l'organismo indipendente di valutazione che ha un controllo sulla gestione degli antilocali venga scelto direttamente dai soggetti che poi hanno, sulla base di un parametro che poi vengono riportati nel Dipartimento della Funzione Pubblica, però poi i stessi controllati si scelgono i controllori. Ma questa stessa cosa sta accadendo con i revisori di antilocali, cioè a un certo punto vi è una tendenza politica a portare la scelta in determinati comuni, in una certa dimensione, in capo agli stessi sindaci. Allora, questo aspetto però, secondo me, ecco questa domanda che oppongo a lei, va ad impattare inevitabilmente su quelli che sono i controlli. Ecco, io condivido, ad esempio, vedendo, faccio l'esempio di Napoli, un piano di rientro che ogni anno non è altro che una valutazione di un aggravarsi della situazione economico-finanziare, che poi viene traslata da un'amministrazione a quella successiva. Ora cosa succede? Vi è sicuramente una responsabilità anche di tipo politico. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui si va a dare ad un comune, come nel caso di Napoli, che non riesce a raccogliere, che ne so, e non dico una cifra, non a caso, un miliardo di euro di tasi o un miliardo di euro di multe stradali, quindi parliamo di due miliardi, sono cifre non a caso perché le conosco, effettivamente abbiamo da un lato una cittadinanza che risulta appunto in condizioni di disagio, dall'altro lato una parte politica quasi esente da qualunque responsabilità. Però, ripeto, io ho letto delle valutazioni tecniche da parte dei revisori sullo stesso bilancio che variano a seconda del gruppo appunto di revisore. Allora, la domanda che faccio è quanto è importante la reale indipendenza nei processi di valutazione di tutti gli organi di controllo che vengono previsti dalla nostra normativa, ripeto, anche i segretari comunali, che hanno un ruolo importante e che fanno da garanzia amministrativa rispetto alla qualità degli atti, però revisori antilocali, organismi indipendenti di valutazione e soprattutto almeno una maggiore pubblicità di quelle che sono le loro risultanze che spesso e volentieri vengono in pratica relegate all'interno di documenti che sono ad uso e consumo della parte politica e della parte tecnica, ma non arrivano ai cittadini. A quel punto lì vi sarebbe una maggiore responsabilità politica di chi poi conduce un ente locale ad una condizione tale che vede lo Stato impegnato a dover intervenire con una maggiore contribuzione. Grazie a lei, Senatore. Sono così terminati gli interventi, do quindi la parola al Dottor Colaiani per la replica, ricordando che alle 9.30 io devo assolutamente concludere l'audizione perché iniziano i lavori nelle aule. Grazie. Ringrazio per l'importanza delle domande, ci serve da discutere in qualche giorno, però cercherò di mantenere i tempi previsti. L'On. Fragomelli mi poneva un problema, a cui rispondiamo subito, minori in comunità. Sì, sappiamo perfettamente il problema, io poi nella mia vita passata ho fatto anche parte del Dipartimento dell'Immigrazione e quindi sappiamo, in Libertà Civile e Immigrazione sappiamo quanto sia diffuso il fenomeno. Il Governo purtroppo qui ha fatto solo un intervento spot nella legge bilancio 2021, c'è stato un fondo che noi abbiamo fotocosamente costruito perché poi il sentimento non è stato di semplici attrazione, abbiamo sulla base di certificazione di niente abbiamo anche distribuito questo fondo, purtroppo non mi risulta che ci siano stati ulteriori interventi, quindi il fondo al momento è congelato, è già stato distribuito, quindi condivido quello che diceva l'On. Interventi spot, ma purtroppo noi da tecnici applichiamo le normative che vengono approvate. Sui disavanzi tecnici che possono provocare i minori in comunità ne siamo consapevoli. Lo studio, ecco, io ricordo che il decreto legge 104 all'articolo 106 prevede un tavolo tecnico costituito da ragioni del generale Stato, di cui facciamo parte anche noi della finanza locale, che sta esaminando e esaminerà a breve anche le certificazioni per l'anno 2021, andremo avanti fino al 2022 e chiaramente questi aspetti in quella sede verranno sicuramente analizzati per cercare di capire quanto il fondo per le funzioni fondamentali ha garantito gli enti e quanto invece ha prodotto delle criticità e poi probabilmente verranno tratte delle conclusioni. Comma 29 e Comma 139 sono le medie, le piccole opere. Il problema a ritardi c'è. Abbiamo avuto, quello che dicevo prima, difficoltà nel far dialogare le norme europee con quelle nazionali e purtroppo, mi pare, fra come me parlava di piccoli importi che devono sottostare a determinate condizioni, a determinati requisiti. La norma europea, per quanto possiamo cercare di semplificare, è quella. Chiaramente sui piccoli comuni anche le certificazioni sono molto più leggere e comunque stiamo, grazie a interventi di rafforzamento degli uffici, anche attraverso l'assistenza tecnica, cercando di creare un pool che possa intervenire in questi casi e dare ausilio agli enti locali. Per i ritardi, proprio in questi giorni sta sulla mia scrivania il decreto per gli acconti, che mi chiedeva dei tempi, io mi auguro entro il mese di aprile per essere proprio largo, ma insomma si tratta soltanto di limare gli ultimi aspetti, ripeto, dovuti soprattutto all'omogenizzazione delle legislazioni. Per quanto riguarda quello che chiedeva il senatore Berrosino, sì, le province, proprio in questi giorni ne stiamo parlando, abbiamo raggiunto faticosamente un accordo in conferenza a Stato-Città, un'intesa, e sappiamo delle difficoltà di molte province, da quest'anno ci sono due fondi, l'ex fondo sperimentale di equilibrio viene diviso tra fondo per le province e fondo per le città metropolitane, c'è un certo dibattito tra le due componenti, però abbiamo dei fondi che attenuano un pochetto l'effetto di contributo alla finanza pubblica prevista già dalla leggeria, che si sta attenuando, però al momento effettivamente ci sono delle difficoltà per garantire a tutte le province, ma anche alle città metropolitane, delle risorse che possono consentire la gestione delle parti correnti. Quindi questo è un discorso che stiamo affrontando in questi giorni, anche perché ci sono richieste da parte dell'associazione UPI-ANCI di avere maggiore risorse. E credo che il Vice Ministro Castelli abbia dato qualche garanzia per il futuro. Servizi sociali, asili nido, trasporti disabili, sì, ci stiamo lavorando, stiamo preparando i decreti, sì, è più facile per i consorsi gestire i servizi sociali, questo lo rendiamo conto sul campo. Gli asili nido sono previsti delle risorse anche ai piccoli comuni, non c'è solo un bambino, anche in forma di sussidio alle famiglie, chiaramente non possiamo pretendere il Comune di 500 abitanti che ha due bambini e possa istituire un asilo nido, però in forma di sussidio e poi idola alle famiglie o comunque potrà prevedere un consorzio, un'attività con altri enti locali. E la stessa cosa vale per il trasporto disabili, che per noi, insomma, è una novità che vedremo come andrà quest'anno, poi per gli altri anni per fare i correttivi, ma anche qui è previsto il contributo alle famiglie. La rendimentazione del trasferimento, come lo diceva e me lo chiedeva il senatore Piero Sino, è complicata, ma è complicata non solo per i comuni, guardi, anche per noi è complicatissima. Il MEF, su indicazione della Commissione Europea, ha elaborato questo nuovo sistema, si chiama Regis, dove tutto dovrà confluire, ma abbiamo grosse difficoltà. Intanto stiamo cercando di trasferire tutti i dati che già abbiamo, ma ci sono degli arrempimenti nuovi nel Cito 1 per tutti, lasciamo perdere il DSNH dal danno all'ambiente, ma ci sta la richiesta di avere l'effettivo titolare del ditta che si giudica l'appalto, cosa che noi non abbiamo mai chiesto ai comuni. Quindi la immagine si tratterà di andare anche nei piccoli comuni, ritrovare i fascicoli, inserire questi dati. Anche lì ci stiamo organizzando col MEF, con le prefetture, con la regione territoriale, abbiamo delle idee in proposito, per dare assistenza sul territorio, perché ci rendiamo conto di riprendere fascicoli di lavori magari già conclusi, è complicato. Aspetto i 14 quesiti della regiazione urbana. Prima non l'ho detto, ma la legge di bilancio ha previsto per i comuni di alzate 15 mila abitanti la possibilità di unirsi e presentare dei progetti, unirsi e raggiungono i 15 mila abitanti. So che molti comuni hanno già presentato questi progetti, dal nord al sud, c'è stata molta richiesta, qualcuno mi ha fatto dei quesiti sul tipo di progetti, devo dire, molti sono validi, soprattutto quando si tratta di recupero di centri storici, di piste ciclabili, mobilità sostenibile, eccetera. Per quanto riguarda la crisi finanziaria dei grandi comuni, non sono un politico, quindi devo per forza dare una risposta tecnica. Tecnicamente è un bel impegno. Sono 21 anni di finanziamenti, ci sarà anche qualcosa che va a incidere sui cittadini, perché è previsto l'aumento dell'addizionale IRPEF, oltre i limiti già previsti oggi, incremento di diritti di imbarco, di sbarco, quindi c'è un 25% di contributo da parte degli enti. Mi scuserà, ma mi astengo dalla valutazione politica. Allora, abbiamo la senatrice Ferrero. Gettito IMU, dai miei dati, sono 2 miliardi e 768 milioni previsti già da qualche anno, è un gettito pari al 22% circa degli incassi IMU. PNRR è un bellissimo argomento. Per quanto riguarda il PNRR è un argomento gli aumenti. Il decreto di energia ha previsto un fondo, i colleghi del Dipartimento delle Finanze ci stanno lavorando, perché sono dati che lavorano loro e poi condividiamo e distribuiamo con i nostri fondi. È un'esigenza forte, nel territorio già ci è arrivata questa dell'aumento dei prezzi. Purtroppo il piano prevede queste cifre, non sono modificabili al momento. C'è il fondo complementare che può sopperire a qualche carenza, i 30 miliardi dello Stato, però non le saprete di adesso il fenomeno che dimensioni ha, che dimensioni sta raggiungendo, e soprattutto anche in prospettiva futura c'è una grossa incognita. Sui dissesti, quello che ho detto adesso per il senatore Perosino, però aggiungo che un monitoraggio, lo ripeto, forse un monitoraggio da parte dello Stato un po' impiccisivo, ci sarebbe, insomma, sarebbe importante. Onorevole Presutto parlava dell'indipendenza di questi organi che devono valutare in qualche modo l'operato degli enti. Io le posso solo dire che per quanto riguarda i revisori dei conti, noi abbiamo sempre dato un parere negativo a quella norma introdotta nel 2019 e che prevede che il Presidente venga nominato dal Consiglio Comunale. Noi come ente tecnico l'abbiamo trovata un passo indietro rispetto a quello che era il sorteggio. Qualche proposta in sede di Riforma 2L c'è. Per esempio qualcuno propone, noi in parte condividiamo, che anche il Presidente venga estratto e il Consiglio Comunale lo nomini su una platea un po' più ampia, faccio un esempio su sei soggetti, e il Consiglio Comunale però lo può nominare ma su quelli estratti. Certo, questo non trova molto appille. Chiedo scusa, ma io devo proprio... Era questa la mia ultima risposta. La ringrazio. Concludo, grazie a voi per avermi consentito... Sì, grazie. Ringraziamo nuovamente il Dottor Colaiani per la sua esauriente relazione. Dispongo che la documentazione consegnata sia legata al resoconto stenografico della seduta e dichiaro conclusa l'audizione. Ringrazio. 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 Grazie a tutti.